Questo è un articolo di un giornale di cui non faccio il nome, si chiama Di nome Corriere e di cognome della sera. Nel 2007, non una parola che potesse sembrare sospetta a casa di Rose Urindo, erano convinti coniugi romano che avrebbero resistito a ogni impressione. Si sentivano finalmente liberi dall'insopportabile peso della convivenza con quelli del piano di sopra, tanto erano contenti di non avere più vicini, averte virgolette, a rompere le palle, chiuse virgolette, che dopo la strage si sono lasciati sfuggire più di un convento di entusiasmo raccolto dalle intercettazioni ambientali. Adesso sì che si vive bene senza quelli, virgolette, virgolette di nuovo, vedi come si sta in pace. Questa intercettazione ambientale, riportata tra virgolette, non esiste!